Poi questo video è tutto un esperimento, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Così da capire se ti interessa o se magari preferite altro Molto fredda quindi un attimo che si scalda, dopo magari ci diamo un po' di gas Spero che si veda bene Un po' di gas Un po' di gas Un po' di gas la cazza era su delle gozze devo dire che la tenuta di queste gomme sul bagnato non è maggiore pensavo bene non male ecco adesso andrò al mio garage dove ti sarà un amico speciale ok allora qua è venuto il corriere espresso veronesi che ci ha portato vai facciamolo bene fmf spiega perché perché cosa perché la tua è smontata perché la mia è smontata perché adesso la vedrete è riparta esatto cosa fa più casino secondo te secondo me è questa e adesso sentiamo allora questa è una modifica che fanno tutti ragazzi quindi vediamo lo corrente per smontare la marmitta allora pinza chiave a bussola dell'otto e incominciamo per prima cosa montiamo questa montiamo questa la molla che la tiene poi qua ci sono due viti le otto e due e due spieghiamo fuori una e e due eccola qua allora allora adesso fmf pronti molto semplice non ci credo vecchio ci arriva il riduttore no 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 allora ragazzi abbiamo fissato una vita intanto per sentire il rumore vediamo la differenza ciao 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 ciao